La dichiarazione di Silvio Berlusconi che spiazza, si ha il reddito di cittadinanza, aiuta i poveri. Il leader di Forza Italia fa marcia indietro sulla misura bandiera dell'M5S Silvio Berlusconi approva il reddito di cittadinanza, misura che è stata rifinanziata dalla manovra? Secondo l'ex premier è stata una mossa giusta mantenerlo. In un'intervista rilasciata al direttore del Tempo Franco Becchisi il leader di Forza Italia ha detto che gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare. In passato però non aveva risparmiato aspre critiche alla misura, e all'M5S, la forza politica che l'aveva ideata e spinta. Non più tardi di tre anni fa, a ottobre 2018, a chi gli chiedeva cosa pensasse del sussidio Berlusconi rispondeva così, è una bardelletta, una bufala, è una presa in giro per gli italiani. E ancora, il reddito di cittadinanza non è solo una proposta priva di coperture, è una proposta radicalmente sbagliata perché de-responsabilizza i cittadini. Compito dello Stato è orientare le persone che sono ai margini del processo produttivo a tornare a farne parte, non mantenerle in una condizione di mera sopravvivenza assistita. Oggi l'inaspettata marcia indietro. Il cavaliere sembra dunque approvare le modifiche che sono state apportate in manovra, a partire dalla stretta sui controlli, e dagli incentivi per i beneficiari dell'assegno affinché accettino un'offerta di lavoro. E sembra giudicare un'inezia alle frodi emerse dai controlli della Guardia di Finanza e Carabinieri, che hanno scovato truffe, del valore di 174 milioni in più di due anni. Grazie per la visione!